Assolto, sono stati due anni duri, due anni in cui ho sofferto, ha sofferto la mia famiglia, ha sofferto la città. Questa assoluzione restituisce in parte le amarezze di questo periodo, un periodo in cui non mi è mai mancato il vostro sostegno, il sostegno dei reggini. Adesso per la città ci dovrà essere un nuovo inizio, insieme, vi voglio bene, ci vediamo tra poco. Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sulla sua pagina Facebook. all'indomani della sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna in secondo grado del processo Miramare. Una condanna che, a causa della legge Severino, gli è costata due anni di sospensione durante i quali il Comune e la città metropolitana sono stati guidati dai due sindaci facenti funzioni, Paolo Brunetti e Carmelo Versace. L'annullamento senza rinvio, deciso dalla Suprema Corte, ha rimesso al suo posto Falcomatà, che adesso ritorna in carica fino al 2025, quando dovrebbe concludersi il suo secondo mandato.